Dietro il volto dei tanti animatori e degli educatori riuniti in Aula Palo VI, il Papa vede i giovani che, spinti dall'amore di Dio, cercano nella Chiesa le strade per assumerlo nella propria vita. Rivolgendosi ai partecipanti al Congresso internazionale per i formatori alla vita consacrata, Francesco ricorda il compito urgente della formazione dinanzi alla crisi vocazionale. Esorta i presenti ad essere testimoni della sequela di Cristo prima che maestri, sottolinea il fatto di essere dei privilegiati perché si partecipa all'opera del Padre e li invita ad allontanare la tentazione che tale missione sia un peso. L'esortazione è quella di appassionare nell'annuncio, di andare nelle periferie per raccontare l'amore di Gesù ai piccoli e ai poveri e lasciarsi così evangelizzare da loro. È necessario però una base solida, una struttura cristiana della personalità che oggi le famiglie raramente sanno dare. È importante non lasciarsi abbattere dagli insuccessi e nemmeno dalla sensazione che il proprio lavoro non sia apprezzato. La Chiesa, conclude il Papa, vi è grata. Voi non siete solo amici e compagni di vita consacrata di coloro che vi sono affidati, ma veri padri, vere madri, madri capaci di chiedere e di dare loro il massimo. generare una vita, partorire una vita religiosa. E questo è possibile soltanto per mezzo dell'amore, l'amore di padri e madre. E non è vero che i giovani di oggi siano mediocri e non generosi, ma hanno bisogno di sperimentare che si è più beati nel dare che nel ricevere. Che c'è grande libertà in una vita ovediente, grande fecondità in un cuore vergine, grande ricchezza nel non possedere nulla. Grazie. 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 Grazie.